15 milioni di euro stanziati ma dopo tre anni mai arrivati alle zone colpite dalla sisma. A sollevare la questione il consigliere regionale Fausto Orso Marso ed il riferimento e ai fondi destinati ai territori del Pollino colpite dal terremoto nell'ottobre del 2012. Orso Marso ha ripercorso la vicenda sottolineando lo sforzo compiuto all'epoca per ottenere i 15 milioni del governo Letta. A giugno scorso arrivò la pubblicazione di un decreto della presidenza del consiglio che assegnava le risorse alle due regioni colpite ma quei fondi non sarebbero poi mai arrivati ai territori. Orso Marso chiede quindi al Presidente Oliverio il perché di questo ritardo, quali intoppi lo provocano e se è vero che lo Stato ha assegnato le risorse e demandato le regioni la fase di ricostruzione. Infine Orso Marso chiede al Presidente dell'Aggiunta regionale i tempi, criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finalmente stanziate. Da qui la richiesta di accelerare un processo burocratico che conclude Orso Marso nel caso di un sisma di una calamità dovrebbe avere una corsia preferenziale. Grazie. Grazie.